Mi fa un po' sorridere che i primi a criticare il primo governo che ha avuto il coraggio di fare una tassazione sulle banche siano quelli che quando erano al governo alle banche hanno preferito fare regali miliardari. Vale per il PD con i famosi decreti salvabanche, salvataggi diretti per miliardi di euro. Vale per il Movimento 5 Stelle che è stato cintura nera di aiuti alle banche. Ricordo il famoso decreto dei 400 miliardi della cosiddetta potenza di fuoco con il quale si trasformavano dei prestiti che le banche avevano già erogato in prestiti garantiti dallo Stato italiano. Potrei citare l'obbligo di possa addirittura tra gli obiettivi necessari a poter prendere i soldi del PNRR, cioè dove nel resto del mercato europeo gli altri si devono guadagnare il mercato.